L'Assemblea dei soci della BCC San Marzano ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 ed eletto una nuova componente del Consiglio di Amministrazione per il prossimo biennio 2024-2025. L'assise si è svolta in presenza con una straordinaria partecipazione dei soci presso il Teatro Italia di Francavilla Fontana, che hanno approvato all'unanimità le proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno. L'Istituto di Credito Pugliese conferma il trend di crescita e chiude il bilancio 2023 con un utile netto di 9 milioni di euro, il miglior risultato dalla fondazione della banca. Questo naturalmente per noi è un motivo di orgoglio ma è anche un motivo di stimolo per poter fare sempre meglio, tenuto conto che le risorse di una banca di credito cooperativo rimangono sul territorio. Quindi sì, è un successo della nostra banca ma è anche un successo di tutto il territorio in cui operiamo. Nell'ambito dell'elezione del nuovo amministratore Maria Elsa Modeo, in sostituzione del consigliere Alessandro Greco, che la banca ha ringraziato per l'impegno e la dedizione profusi nei suoi 28 anni di mandato, è stato evidenziato il percorso che la BCC San Marzano ha intrapreso per sostenere il ruolo delle donne in banca, riconoscendo le pari opportunità come risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore. Speriamo che anche il 2024 abbia gli stessi risultati e che quindi possiamo continuare a dare un contributo importante perché gli uomini, le donne, i giovani specialmente nel nostro territorio possano vedere un futuro migliore con una maggiore occupazione, con la possibilità che una banca, come una banca di credito cooperativo di San Marzano e di San Giuseppe, possa dare loro una mano per ottenere i risultati migliori dalla loro professione e dalla loro vita.